La palazzina di Al-Katala era una miniera d'oro. Abbiamo trovato il lupo. Il portatile ci ha condotto all'ospedale Ramasa in Mozikstan. Crediamo che il leader di Al-Katala sia lì. Le truppe di fare monitoreranno i terroristi all'ospedale, mentre una squadra di terra di marine avanzerà sul complesso. Eko-3-1 catturerà il lupo per interrogarlo sul gas russo rubato. Che voleva tanto? Urtando i civili come fossero scudi. Proteggono qualcuno. O qualcosa. Più scopriamo... Gia libera. A dire il mio cecchino migliore. Conta pure su di lui. E su tutti gli altri. I marine vogliono un po' d'azione. Guideranno l'assalto. Ti ho detto che avremo aiutato. E sei di parola. Non è per quello. Che lo faccio? Per gli invasori del mio paese, la vita umana non ha valore. E il gas uccide tutto. Anche il cibo che coltiviamo. Chi usa queste tattiche è mio nemico. Nessuna eccezione? No. Al-Katala ci ha rovinato la reputazione. Abbiamo pagato cari i loro crimini. E il lupo va punito. Farò in modo che tu sia all'ambasciata durante la consegna. E tu? Dove andrai dopo tutto questo? Ovunque mi manderanno. Non puoi scegliere. Non proprio. Riposa. Domani sarà dura. E tu e i tuoi uomini? Saremo qui fino all'alba. Copro l'angolo sguarnito. Patuta di caccia. L'ospedale è in fondo alla strada. Mezzo chilometro. Io vado insieme ai Marine. Ecco 3-1. Sergente Griggs. Ce l'hai davanti? Chiamami Alex. No, niente locali. Non decido io. Sei Karim? Ce l'hai davanti? Bel lavoro contro i russi. Amici e nemici in comune. Siamo Alex. Timon Dog. È ora di scatenare il caos. Avremo tutti i bersagli che vorremmo. Occhio alle finestre. Qui è difficile distinguere amici e nemici. È tutto un casino. Seguite il blindato e state vicini. Timon 1-2. Viper 3-5. Viper, dove siete? Viper in direzione Nord verso Checkpoint Omaha 1-2. Ricevuto. Appuntamento all'incrocio tra un minuto. Che è fatto? Peccatevi questo! Uhuhuhu! Che ma c'è? Vabbè? Certo. C'è il campo della niente. Situazione 3-1. Puoi disinnescarlo. Ok, vado. Ecco. I cavi sono tutti tuoi. C'è il campo libero. Andiamo. Seguite il blindato e state vicini. Arin, avanti! Go, Giuda! Lanciate i fumogeni, attaccate il fianco. Verso l'alto! Lanciate il fumogeno! Muoversi, muoversi! Fuente così! Ruire ilน per il! Grazie a tutti. 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 Servono munizioni? Grazie a tutti. 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 Partiamo. Grazie a tutti. 3-3-1, andiamo! Fermi. Oh, ma che ansia! Riggs, entriamo. State pronti. Fermi. Dimon, pronti? Prendi quell'animale vivo, Alex. Non spararti. Stendilo a terra. BAM! Libero! Tranquillo, fratello. È tutto a posto. Sei bene, Alex? Sì, Griggs. Omar Suleiman. Sei sotto la custodia di questa squadra speciale. Fa esattamente come ti dico. O sei morto. Chi occhi c'ha questo? Sì, quadri dimoni, i marini sono al sicuro. Non può scoporarlo. Portiamolo all'ambasciata. Chi occhi c'ha vero? Chi occhi spiritati? 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 Grazie a tutti.